Benvenuti a Crossroads. Per la Corte Suprema è incostituzionale rimuovere Donald J. Trump dalla scheda elettorale, ma ci sono altri modi per tenere Trump fuori dalla Casa Bianca. The Atlantic ha diffuso quella che potrebbe diventare la nuova strategia nella crescente lista di maneggi per impedire a Trump di diventare presidente. I democratici potrebbero rifiutarsi di certificare le elezioni se Trump vincesse nel 2024. In parole povere, voi lo votate e lo volete come presidente, ma i democratici dicono di no. Questa è l'idea del momento. E il bello è che questo sarebbe lo stesso che accusano Trump di aver fatto nelle elezioni 2020, cioè di eversione. Dicono loro, leggiamo The Atlantic. Al termine del dibattimento alla Corte Suprema sulla possibilità per il Colorado di escludere l'ex presidente Donald Trump dalla scheda elettorale in quanto insurrezionalista, l'avvocato che rappresenta gli elettori dello Stato ha lanciato un avvertimento ai giudici, evocando la rivolta del 6 gennaio che ha fatto scoppiare il caso. Qui dico la mia. Tenete presente che questo è l'Atlantic. A questo punto del dibattimento, i giudici avevano chiarito di non gradire l'idea di permettere a un singolo Stato di far fuori Trump. L'avvocato, Jason Murray, aveva detto che se la Corte Suprema non avesse risolto la questione dell'eleggibilità di Trump, poteva esserci una vendetta, testualmente. Chissà di che parlava. E poi, dopo le elezioni, quando il Parlamento si riunirà di nuovo per contare e certificare i voti dei grandi elettori, Murray e altri giuristi affermano che, in assenza di una indicazione chiara da parte della Corte Suprema, una vittoria di Trump potrebbe portare a una crisi costituzionale in Parlamento. E non la provocherebbe Trump. La provocherebbero i democratici. Perché i democratici dovrebbero scegliere tra il confermare un vincitore, che molti di loro ritengono ineleggibile, e lo sfidare la volontà degli elettori che lo hanno eletto. La loro scelta sarebbe decisiva. E, come dimostrato dalla vittoria nelle elezioni suppletive per la Camera a New York della scorsa settimana, i democratici hanno serie possibilità di conquistare la maggioranza al Congresso a novembre, anche se Trump dovesse riconquistare la Presidenza allo stesso giorno. E, in quel caso, potrebbero avere i voti per impedirgli di entrare in carica. Scusate, ma ora esprimo la mia opinione. È molto buffo. E la mancanza di autoconsapevolezza qui è incredibile. Perché, prima di tutto, Trump non è mai stato condannato per insurrezione. Che che ne dicano le chiacchiere da talk show politico? Fatemelo dire. Trump non è mai stato condannato per insurrezione. È solo una cosa che dicono i politici e i giornali a cui Trump non piace. E non c'è alcuna base legale. Sì, Trump sta ricevendo accuse di questo tipo, e hanno cercato di rimuoverlo dalle schede elettorali ai sensi del quattordicesimo emendamento. Ma l'articolo dell'Atlantic suggeriva che i democratici potevano agire da soli per bloccare Trump, se la Corte Suprema non l'avesse fatto. In altre parole, i democratici ora potrebbero agire in senso contrario alla sentenza della Corte Suprema. Questo, lo ripeto, per un'accusa campata in aria. E questo è stato ripetutamente chiarito dalla Corte Suprema. solo il Parlamento e il Presidente possono dichiarare un'insurrezione. Nessun altro. E nessuno dei due lo ha fatto il 6 gennaio. E ormai è troppo tardi. Ora non possono più. Al momento, Trump non l'ha fatto. E il Parlamento nemmeno. I democratici hanno cercato di mettere Trump in stato d'accusa per questo. Ma la Camera ha respinto la mozione. Il discorso ormai è chiuso definitivamente. In altre parole, l'intera argomentazione dell'insurrezione è falsa. Ma stanno usando questa storiella come base per ulteriori attacchi legali. Una base inesistente. Perché non c'è niente di vero. Secondo loro, Trump avrebbe fomentato i disordini del 6 gennaio. E sulla base di un piano studiato a tavolino, quando denunciava le irregolarità delle elezioni 2020. Denuncia che aveva portato alla possibilità di richiamare alcuni grandi elettori nei rispettivi stati, affinché cambiassero il proprio voto. Cosa che, tra l'altro, è sempre stata legale. Sempre. Trump, per loro, avrebbe architettato tutto per far sì che il Parlamento decidesse, illegalmente, di non certificare Biden presidente il 6 gennaio. Da qui l'accusa di eversione. Una storia che fa acqua da tutte le parti. Innanzitutto, Trump ha sì detto alla gente di andare a protestare, di far sentire la propria voce, il 6 gennaio. Ma avevano anche un evento programmato al Campidoglio. Cioè, avevano le autorizzazioni per l'evento e avevano anche un palco per gli oratori. Naturalmente, conosciamo tutti la storia di questo evento. Non mi dilungo. La storia del 6 gennaio fa acqua da tutte le parti. Ma, a parte questo, la contestazione del voto dei grandi elettori non è illegale. I democratici lo hanno fatto in passato ed è stato accettato dal Parlamento. Ma loro strumentalizzano qualunque cosa capiti. A loro interessa solo incriminare la gente, con accuse false, e portarla davanti al giudice per poi poter estorcere delle confessioni di colpevolezza. Minacciano gli imputati usando interpretazioni della legge senza precedenti. In effetti, secondo la giurisprudenza, qui non risultano reati in gran parte dei casi. Compresa, ad esempio, l'accusa di turbativa di procedura ufficiale che molti imputati per il 6 gennaio stanno subendo, o l'idea che i grandi elettori che contestano il voto agiscano in modo illegale e inaudito. Più che altro, qui sembra che si stiano preparando il terreno per perseguitare gli avversari politici e lanciare false accuse per creare una propaganda da sostituire alla realtà dei fatti. Perché il punto, qui, è che tutto si basa sull'idea falsa che il 6 gennaio sia stata dichiarata l'insurrezione. Cosa che non è mai avvenuta, come la Corte Suprema ha ripetutamente affermato. Questo significa che i parlamentari democratici, se decidessero di non certificare le elezioni eventualmente vinte da Trump, lo farebbero sulla base di una propria interpretazione e non sulla base della legge. Ma soprattutto, il colmo del ridicolo è che The Atlantic suggerisce che i democratici potrebbero commettere, realmente, lo stesso reato di cui accusano, falsamente, Trump. E sta cercando di convincere i parlamentari democratici a fare proprio quello che Trump è falsamente accusato di aver fatto, cioè un atto di insurrezione. I democratici potrebbero rifiutarsi di certificare Trump presidente degli Stati Uniti, alterando il voto dei grandi elettori. E questi sono gli stessi che dicono che Trump sarebbe una minaccia per la democrazia. La democrazia. Quella cosa per cui la gente ha il diritto di andare a votare per scegliersi i propri politici. Per loro, se gli elettori americani sceglieranno Trump, i deputati democratici potrebbero agire in spregio al voto popolare e fare esattamente quello di cui accusano Trump. Incredibile. Alla faccia della democrazia.